E' ora attivo anche nel comune di Sciacca il servizio di pagamento delle soste nelle aree gestite con parchimetro tramite l'app Telepass Pay. L'innovativo sistema consente di pagare la sosta sulle strisce blu con il proprio smartphone anche senza avere il Telepass in auto. Comodo, intuitivo, cashless, il servizio riservato ai clienti Telepass Pay permette il pagamento dei soli minuti di sosta effettivi sulla base delle tariffe indicate dal comune senza alcun costo aggiuntivo sulla tariffa della sosta. Basta scaricare l'app Telepass Pay o Telepass Pay X, confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. Al resto ci pensa l'app che avvisa l'utente quando la sosta sta per scadere e calcola direttamente l'importo complessivo che sarà successivamente addebitato. Inoltre è possibile modificare il termine della sosta anticipandolo o posticipandolo anche a distanza in modo da pagare l'effettiva durata del parcheggio ed evitare le multe. La regolarità del pagamento della sosta con Telepass Pay è verificata dagli ausiliari del traffico tramite consultazione di un palmare inserendo la targhe del veicolo in sosta. Per poter ulteriormente segnalare agli ausiliari il metodo di pagamento obbligatorio nel comune di Sciacca è necessario esporre tagliando Telepass Pay disponibile sul sito telepass.com o nell'app. Quest'ultima segnalerà all'utente se nei comuni in cui si sta effettuando la sosta all'esposizione del tagliando obbligatoria è possibile inoltre fare la propria nota spesa accedendo all'archivio delle soste presente nell'app Telepass Pay. Con l'avvio del servizio strisce blu a Sciacca diventa più semplice ed economico parcheggiare in città con un vantaggio sia per le persone che per la mobilità urbana ha dichiarato Pietro Cereda, chef consumer officer di Telepass. Grazie alla proficua collaborazione con il comune di Sciacca la città si aggiunge alle oltre 130 altre località su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo nello scenario attuale. La sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà in modo integrato, sicuro e sostenibile. Il servizio di parcheggio a pagamento a Sciacca dopo la fine del rapporto con la SGS viene gestito direttamente dal comune con i tagliandi del gratte e sosta ma anche con l'app MyCicero che, come ci ha confermato oggi l'assessore Michele Bacchi, continuerà a funzionare associato a Telepass. Un servizio che probabilmente anche a causa della pandemia, che ha visto meno gente in giro al momento, ha registrato parcheggio a pagamento utilizzati molto poco sul territorio.